pronto allora c'è una roba attenzione più quindi legate un sms per quanto riguarda le domande di sicurezza vediamo il data dei titoli di rispondere ah ok perché io ho fatto la procedura questa per l'attivazione di ok allora se mi può fornire un attimo l'fms ricevuto l'ultimo stiamo rifiutando le domande di sicurezza eccetera un codice 517228 ok signora la procedura di sbocco è andata a buon fine ma perché si era bloccata? è un problema del nostro database signora quindi noi torniamo di che il suo casco le può utilizzare già da questo momento soltanto per l'acqua e per il sito sono momentaneamente sospesi per tre giorni quindi lei da questo momento non deve più accedere né all'app né al sito per nessun motivo per tre giorni la ricontattiamo noi quando potrà rifarlo ma le sue carte le può utilizzare già da questo momento per pagamento che li ha ok quindi non può operare per la banca online diciamo ok per tre giorni grazie arrivederlo 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 grazie a tutti Grazie a tutti